Cari amici del presepio, ben ritrovati o benvenuti per quelli che si connettono con noi per la prima volta. È passato poco più di un mese da quando abbiamo concluso il nostro convegno virtuale e ci ritroviamo ancora una volta qui, con le stesse modalità purtroppo, per passare insieme, per farci reciprocamente compagnia in questo periodo d'avvento che inizia oggi. Perché abbiamo voluto questa iniziativa? La situazione che ci accompagna ormai da mesi è ben nota a tutti quanti e purtroppo ha sconvolto le nostre vite, ha sconvolto la nostra vita quotidiana, le nostre attività e in questo periodo sconvolge in maniera particolare le vite di noi amici appassionati del presepio. La maggior parte delle iniziative normalmente programmate sono state purtroppo annullate e in questo periodo che normalmente ci vede tutti impegnati negli allestimenti, nella realizzazione di mostre, normalmente si inaugurano intorno all'8 dicembre, quindi tra poco più, tra una settimana o poco più, si sarebbero dovute inaugurare nell'allestimento dei presepi nelle chiese, in altri luoghi o strutture pubbliche. Ebbene, tutto questo purtroppo quest'anno probabilmente non ci sarà. Però non ci siamo voluti arrendere al Covid e penso che nessuno si sia voluto arrendere o voglia arrendersi al Covid e per questo, per quanto ne so, sono state avviate molte attività in sostituzione, attività per lasciare comunque, per dare comunque un segno di presenza, un segno di speranza, che peraltro non deve mai prevalere sul segno, sul senso di responsabilità che deve animarci tutti in questo periodo, attività che ci tengono comunque impegnati. e noi abbiamo voluto lanciare e lanciarci in questa iniziativa che vuole appunto tenerci uniti in qualche maniera per tutto il periodo fino a Natale e anche nei giorni successivi per vivere insieme questo momento dell'Avvento, visto che non possiamo farlo di persona. Anche noi in questo periodo saremmo stati impegnati in varie attività, in vari allestimenti. Per la prima volta, a dire la verità, avevo pensato dopo quasi mezzo secolo che avrei passato un mese di novembre e di dicembre di tutto riposo, tranquillo, a casa e inattivo. In realtà non è stato così perché preparare quanto andremo a vivere nei prossimi giorni insieme agli altri amici che si sono impegnati con me in questa attività non è stato per niente semplice, anzi sicuramente è stato più impegnativo e faticoso che è allestire e portare avanti le tradizionali iniziative di questo periodo. Saremmo stati impegnati, dicevo anche noi, come sede nazionale nell'allestimento di mostre, in particolare quella di Rieti, che ci vede attivi ormai già da tre o quattro anni e che comunque se le condizioni, se le normative lo consentiranno si aprirà magari in ritardo, ma comunque la mostra, se sarà possibile, si farà. Saremmo stati impegnati soprattutto nell'apertura normale e straordinaria, come in questo periodo normalmente, del nostro Museo del Presepio, il Museo del Presepio di Roma, della nostra associazione. Il museo purtroppo è chiuso ormai da tempo e rimarrà chiuso per quest'anno, per la prima volta da quando è stato istituito, nel lontano 1967, il museo dovrà rimanere chiuso. Per questo abbiamo pensato, per farlo vivere, in qualche maniera per farvelo vivere, ricordarlo a chi lo conosce e farlo conoscere a chi invece non ha mai avuto occasione di visitarlo. L'appuntamento con loro è rinviato, fanno appena le condizioni e lo renderanno possibile. Abbiamo pensato, dicevo, di proporvelo in una rapida carrellata di immagini, in una sorta di tour virtuale. L'appuntamento con loro è rinviato, a chi mi ha mai avuto qualcosa di un'epoca, in una sorta di tour virtuale. L'appuntamento con loro è rinviato, in un'epoca, in un'epoca, in un'epoca. Questa è un'epoca. In che cosa consiste dunque? Questa iniziativa che ci apprestiamo a lanciare e che vi presentiamo oggi. Una serie di iniziative in realtà, una serie di proposte, di filmati che spazieranno un po' in tutti i campi, che si propongono di far conoscere meglio il mondo del presepio sicuramente, ma non soltanto, anche di far vivere quelli che sono, conoscendoli meglio, quelli che sono i momenti più significativi del periodo natalizio, che si propone anche di riscoprire le radici, tutt'altro che laiche, di alcuni simboli assurti oggi, in realtà, simboli del Natale pagano. Vari iniziative, dicevo, che proporremo di giorno in giorno, alcune saranno in più puntate, che in parte abbiamo già anticipato, avete potuto leggere nei giorni scorsi sui nostri social, ma che non voglio rivelarvi per intero. Abbiamo pensato di impostare il tutto come un calendario dell'avvento. Sapete quei calendari che vanno dal primo al 24, al 25 dicembre, in alcuni casi, che sono costituiti da una serie di finestrelle numerate, ogni giorno se ne apre una e si scopre il disegno, il disegnino, la frase riservata a quel giorno. E quindi, ecco, anche per voi sarà così. Ogni mattina potrete aprire una finestrella, una di queste finestrelle del nostro calendario dell'avvento virtuale e scoprire quello che è in programma nel corso della giornata. La cosa più carina, più simpatica di questa tenera tradizione, che mi auguro che sia ancora sufficientemente diffusa nelle nostre case, è proprio la sorpresa, la sorpresa di scoprire ogni mattina che cosa si cela dietro quella finestrella. e quindi non voglio rovinarvi la sorpresa e vi lascio quindi a questo compito, spero piacevole, di andare a vedere ogni mattina che cosa potrete trovare sui nostri social in quel giorno, fino appunto al 24, al 25 dicembre. Vi anticipo soltanto alcune iniziative più significative. Avremo il domenica 13 dicembre alle 11.30 la Santa Messa in diretta, streaming, celebrata dal nostro assistente ecclesiastico, padre Giuseppe Cellucci. Mentre domenica 20 ci collegheremo con Rieti, ancora una volta con Rieti, ringraziando per la disponibilità, sua eccellenza, Monsignor Pompili, il Vescovo di Rieti, per seguire la messa da lui celebrata, che si concluderà con la benedizione dei bambinelli. Altro appuntamento significativo a cui vi chiamo sin da ora sarà nel tardo pomeriggio, prima serata del 23 dicembre, poi comunicheremo per tempo ovviamente orari e modalità per collegarsi, per un incontro, un incontro informale per chi vorrà per stare insieme e scambiarci un saluto e un augurio, credo che tutti più che mai ne abbiamo bisogno in questo momento, e alla vigilia, all'immediata vigilia del Santo Natale. Un'altra iniziativa che abbiamo pensato di lanciare e che vi esorto a condividere è quella della letterina di Natale. Abbiamo parlato prima dei calendari dell'Avvento, anche la letterina di Natale, come sapete, è una usanza, una bella tradizione, che una volta era immancabile in tutte le case e che anche in questo caso mi auguro che possa continuare a esistere. Già da qualche tempo abbiamo chiesto tramite il sito, tramite Facebook, la vostra collaborazione, chiedendo a ciascuno di voi di mandare un vostro augurio, un vostro pensiero, una vostra riflessione, una vostra speranza, per poterla condividere con tutti sulle nostre pagine. Vogliamo darvi soltanto una piccola anticipazione con una letterina scritta dalla nostra associazione che vogliamo proporvi già in questa circostanza, in questo primo giorno di Avvento. Bene, torniamo insieme. E cominciamo, cominciamo questa piccola grande avventura che speriamo sia di vostro gradimento. Se non dovesse piacervi non prendetevela con noi, prendetevela con voi stessi, perché se ci siamo imbarcati in questa cavalcata è per voi, e per voi perché avete molto gentilmente manifestato in più occasioni il vostro gradimento per quello che abbiamo fatto in occasione del convegno nazionale e questa vostra dimostrazione di stima, di apprezzamento, di fiducia ci ha indotto ad avviare questa nuova iniziativa online. Ringrazio quanti mi hanno coadiuvato nella preparazione di tutto il materiale che andrete a visionare nei prossimi giorni. Avremo modo poi di ringraziare personalmente, direttamente, singolarmente, tutti i collaboratori. Un'iniziativa che non ha altro scopo che quello di ritrovarci, di aiutarci a vivere insieme questo momento così particolare. Chissà, magari sarà proprio in questa circostanza, in questo Natale così diverso, così nuovo, che forse, chi lo sa, riusciremo a vivere questo periodo riscoprendo il suo valore più importante e originario, riuscendo magari a stare insieme, a condividere alcuni momenti più di quanto non siamo riusciti a fare negli anni passati presi da tanti impegni e con tanti pensieri. I pensieri ci hanno accompagnato purtroppo anche in questa circostanza. Il lavoro che abbiamo fatto è stato sicuramente interessante anche per noi, esaltante per certi versi, perché abbiamo trattato ovviamente gli argomenti a noi più cari, ma anche difficile, ma difficile e faticoso non per il lavoro in sé, ma perché non è stato facile portarlo avanti in queste settimane, quando eravamo e stiamo raggiunti da notizie purtroppo molto gravi, che in molti casi ci hanno anche toccato direttamente, hanno toccato la nostra associazione, che ha dovuto purtroppo contare la scomparsa anche di alcuni amici a noi molto cari. Ma siamo andati avanti, abbiamo voluto comunque andare avanti, anche per loro, anche nel loro ricordo. Alcuni di loro erano già impegnati, malgrado tutto, nella preparazione di questo Natale, delle attività presipistiche per questo Natale. Siamo certi che saranno i primi ad apprezzare e a condividere questo nostro sforzo, o almeno ce lo auguriamo vivamente. Quindi non voglio rubarvi altro tempo, credo che possiamo dare il via a questo avvento virtuale. prima di dare il via, rimane una cosa da fare. Ecco, adesso sì, la prima candela è stata accesa, e quindi non mi resta che augurare a tutti voi una serena prima domenica d'avvento, e ci ritroveremo nei prossimi giorni. Mi raccomando, vediamoci il 23 dicembre, e avremo così occasione di farci direttamente e personalmente gli auguri per un santo e sereno Natale. Almeno questo è il nostro auspicio. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.